Crepa! I giardini sembrano incandescenti! Sta succedendo qualcosa da quelle parti! È giusto! Non è giusto! Non è giusto! Che cosa stai guardando? Giocker ha vinto! Solo che tu non lo sai ancora! Ahahahahahah Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mentre aspetto che me lo portino, ho il tempo di rileggere gli appunti. Sono sempre più convinta che non possa essere curato. Non mostra empatia per le vittime. Sotto sotto sono convinta che ci vedo tutti come prede potenziali. Dottoressa, tutto bene? Che cosa succede? Zazza è sparito, è scappato dall'isolamento. Se ne è andato. Oddio! Non si preoccupi, dottoressa. Lei è al sicuro. Deve aver lasciato l'isola. Certo, ma qualcuno deve avvisare le autorità. Potrebbe uccidere di nuovo. Avete capito? Fondamentale. Oh no, è andato a cercare la dottoressa Cassidy. Pronto? Sara, Sara, grazie. Sta a sentire. Oh santo cielo. Aspetta, c'è qualcuno alla porta. Sara, non aprire la porta. Mi hai sentita? Non aprire la porta. E Zazza è scappato. Com'è? Razie a tutti. Ciao. Grazie a tutti. 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 Oh, Hardy ha fatto riscaldare Batman e per essere una piccoletta devo ammettere che se l'è cavata bene. Le darò nove più. Ma ha detto tra noi, se lo vuoi sapere, basta che aggiunga un altro paio di ingredienti e avrò il mio esercito personale. Stai andando sotto la media che avevo previsto di questo passo non mi batterai mai. Grazie a tutti. Questa stanza è la fine del mondo, questa stanza è la fine del mondo, anche per il killer più celebrato. due persone, una voce, una voce e nessuna pistola? Due persone, una voce e nessuna pistola? di più, una voce e nessuna pistola? No. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Grazie a tutti. 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 Sono qui fuori, ok? Allora è qui. È arrivato il paziente X? Sì, e devo dire che migliora più rapidamente del previsto, ma adesso basta. Parliamo di lei. No, parliamo del suo progetto Titan. Il mio coser? Come fare? Come faccio a sapere che hai legato bene a un tavolo nei sotterranei per pompargli fuori tutto? Credi che abbia tirato a indovinare? Grazie a tutti! No Oh, 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 oh. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Detesto gli spazi ristretti Mi fanno tornare in mente l'infanzia Un'altra menzogna? Chi lo sa? Io di certo no Ma non distraiamoci con i dettagli Allora Voglio tutti i miei mostri Le ho rispedito indietro i soldi Non li voglio Ti sembro uno che dà importanza al denaro Voglio solo i miei mostri Dottoressa E se tu non me li vuoi dare Beh Non sarà divertente E se tu non mi vuoi dare 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 Devo cercare la pista di Harley Quinn Non posso cercare tempo a cercare l'impianto di produzione di Titan E se tu non mi vuoi dare E se tu non mi vuoi dare Non so Sarà Joker che si lavora qualcuno Sì E l'odore non mi piace Crede di essere Dio che sogno Tratta gli uomini come gli pare e piace Se vuoi dare un'altra cosa che non mi vuoi dare Se vuoi dare un'altra cosa su di me Se vuoi dare un'altra cosa su di me Me ne vado Anche io Questo posto fa già abbastanza paura Senza tutti quei mostri che girano E se vuoi dare un'altra cosa su di me E se vuoi dare un'altra cosa su di me E se vuoi dare un'altra cosa su di me Che cosa? E se vuoi dare un'altra cosa su di me Grazie a tutti. 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 Saluto il nemico caduto. Grazie a tutti. Che cosa fai? Grazie a tutti. Lasciatelo qui, abbiamo problemi più urgenti. Cercate Batman. Aspettati, guardo le spalle. Siete rimasti in cinque, siete sufficienti a stendere Batman. Non ho paura di te. Che cosa fai? Come fa? Che cosa succede? Aiutatemi. Che cosa è successo? a respirare! Torneremo quando Batman sarà morto! Aspetta, vengo con te! Siete in quattro contro uno! Non potete sbagliare! Davvero! Non potete partire! Ehi! Chiude le mani! Allora! Sta allontano! Non so dove andare! Non lo vedo più! È l'amore del cuore! Può arrivare da qualsiasi punto! Stato in guardia! Chi diavolo sei? Chi diavolo! Chi diavolo? Io scompetto il cuore! State rendendo le cose? No, compa! Sono sicuro che eravate meglio qui sotto! Voglio uscire di qui! Non era previsto! Sta lontano da me! Sta lontano! Sì! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Voi non resistete neanche un minuto contro Batman. Grazie a tutti. 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 Non esiste sfida che non riesca a risolvere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Devi mettere fine a tutto questo prima che sia troppo tardi.